Si è tenuta ieri cura una spiaggia, l'iniziativa organizzata dal Movimento 5 Stelle, in programma nelle spiagge libere del litorale salernitano da Praiano a Sapri, passando per Vietri sul mare, Salerno, Ponte Cagnano, Faiano, Battipaglia, Eboli, Capaccio Pestum ed Agropoli. La campagna di sensibilizzazione di attivismo civico è giunta alla sua seconda edizione con l'obiettivo di sollecitare le amministrazioni comunali competenti a prendersi cura delle spiagge libere, garantendo adeguate condizioni igieniche. Noi riteniamo che questo ormai è un appuntamento che già dura da due anni e che ripetiamo tutte le domeniche, addirittura a volte anche sabato e domenica, da due anni a questa parte, serve a sensibilizzare certamente i cittadini ma soprattutto l'amministrazione comunale. I cittadini di Salerno pagano le tasse, hanno diritto a delle spiagge pubbliche, soprattutto in questo periodo di crisi economica dove tante persone non possono permettersi la discesa nei liti privati, hanno diritto a delle spiagge pulite, visto che l'amministrazione comunale spende anche dei soldi proprio per questo, hanno diritto ad avere dei servizi, quindi i minimi, l'accesso per i disabili, le docce, dei bagni chimici e soprattutto dei cestini per la raccolta differenziata. Arriviamo al paradosso che nelle nostre case noi differenziamo vetro, plastica e sulla spiaggia buttiamo tutto in un unico contenitore.